Nei prossimi giorni di ottobre il centro vaccinale Città di Agropoli sarà aperto con nuovi open day per la somministrazione di prime e seconde dosi nei giorni di martedì 12, venerdì 15, lunedì 18, martedì 19, venerdì 22, martedì 26, venerdì 29 ottobre, dalle ore 15 alle 19. Potranno sottoporsi al vaccino tutti i residenti che ne abbiano i requisiti senza necessità di prenotazione. Bisognerà però presentarsi muniti di tessera sanitaria. Nel comune di Acciaroli le sedute vaccinali sono previste per giovedì 7 ottobre, giovedì 14, giovedì 21, giovedì 28 ottobre. A Santa Maria di Castellabate invece si procederà con le vaccinazioni mercoledì 6 ottobre, mercoledì 13, mercoledì 20, mercoledì 27 ottobre. È possibile accedere alle sedute senza prenotazione ma con la tessera sanitaria.